Inizia il quinto giro per te, quali sono le sensazioni? La situazione è nuova perché sono con una nuova squadra, dopo quattro anni la Bardiani quest'anno sono in una squadra olandese e con una partenza in casa quindi la sentiamo un po' di più. Comunque è sempre bello essere la partenza del giro, sempre tante speranze e tante ambizioni e via. Quale sarà il tuo ruolo e quali sono le tue ambizioni? Il mio ruolo penso che punterò alle tappe più adatte a me e provare a fare risultato e poi sarò del supporto a Kroosvik per la classifica generale nelle tappe di montagna. Iniziamo con queste tre tappe facili sulla carta e poi quando si tornare in Italia penso inizierà il giro per tutti e vedremo come andrà. Tu hai già vinto due volte, non c'è due senza tre. Sì, sicuramente anche lo scorso anno speravo di fare qualcosa di più ma lo scorso anno è stata una sedione storta. Quest'anno ho dimostrato di andare comunque bene, anche le classiche del nord e della seconda parte sono andate abbastanza bene e arrivo con un'ottima condizione e spero da quando arriveremo in Italia di poter trovare un successo e comunque essere sempre là qui prima di lottare. C'è magari una tappa in particolare nella quale vuoi far bene? Ma c'è una tappa che arriva vicino a casa mia che è Asolo e scusa, è che è una tappa che la conosco bene perché comunque abito vicino quindi il percorso lo faccio spesso nell'allenamento e quindi è una tappa che ho cerchiato. Comunque proverò a fare qualcosa sicuramente già dai primi giorni in Italia che ci sono tappe nel sud Italia molto date a me quindi proveremo già da lì a provare a fare qualcosa. Hai detto te prima che questa è una nuova squadra, come ti stai trovando e cosa è cambiato rispetto al passato per te? Ma è cambiato il modo comunque, alla fine è sempre correre in bicicletta però il contorno è completamente diverso perché comunque mi trovo in una squadra unico italiano, nessuno parla la mia lingua quindi ho dovuto un po' adattarmi e crescere in fretta dal lato linguistico e ho imparato benissimo l'inglese e anche un po' di olandese perché comunque la loro lingua e quindi loro la parlano sempre e quindi ho dovuto adattarmi. Anche comunque come atleta sono un po' cresciuto perché comunque inizio un po' a capire anche quale ruolo puoi avere in una grande squadra e quindi identificarti come atleta. Sarà però anche magari un vantaggio il fatto che tu sei italiano e per una squadra comunque in cui sei l'unico italiano potrà essere un vantaggio in una corsa come il Giro per i tuoi compagni? Beh penso nelle tappe di montagna, diciamo nelle tappe del nord in cui conosco meglio sicuramente anche perché nelle tappe del Triveneto le salette più o meno comunque anche nei giri scorsi le ho fatte quindi conosco un po' i punti chiave e posso anche capire magari anche dalle altre squadre quando c'è il momento in cui vogliono attaccare o voglio fare qualcos'altro. Quindi penso sì per loro possa essere un vantaggio sicuramente avermi in squadra per il Giro.